E' pronto a tutelare in ogni sede l'azienda che rappresenta e di lavoratori che ogni giorno si adoperano per avere una Salerno pulita. Vincenzo Bennett, amministratore unico della società partecipata che si occupa della raccolta rifiuti in città, ha commentato con sdegno l'aggressione subita da un operatore mentre era in servizio domenica mattina in piazza della Concordia. L'operaio ha avuto un diverbio con due cittadini gambiani che lo hanno aggredito procurandogli lesioni giudicate guaribili in 30 giorni dai medici del Ruggi. Condanniamo questo episodio e siamo sempre al fianco dei nostri dipendenti anche accompagnandoli dal punto di vista legale. Difenderemo a spada tratta i nostri dipendenti e l'immagine della nostra azienda. Ma l'amministratore unico della società nell'evidenziare che non si tratta del primo episodio di violenza ha condannato fermamente anche i messaggi di odio indirizzati ai lavoratori che spesso vengono diffusi attraverso i social network. Ha dato mandato ai nostri uffici di seguire un po' queste vicende social, alla fine bene o male sono sempre le stesse persone, a volte ma anche qualche profilo diciamo fake, probabilmente si divertono, probabilmente non capiscono che questo odio social in un periodo difficile come questo della pandemia può provocare, può portare ad aggressioni, ad aggressioni verbali che spesso capitano insomma nei confronti dei nostri dipendenti.